Al Gabrielli quest'anno, nel 2018, lavoriamo sul tema la ricreazione, riflessioni fantastiche sulla scuola. Come lo racconteremo? Lo racconteremo facendo una rassegna dei laboratori decentrati al teatro di Villa Torlonia. Porteremo in scena in prima assoluta uno spettacolo che si chiama La classe agitata, il nome è importantissimo, e faremo dei corsi di teatro, di scenografia e di musica. E una tavola rotonda dove chiacchiereremo con insegnanti, teatranti, artisti, io credo fra le figure più significative che la nostra grande vita culturale italiana ci può offrire. E tutto quanto finirà con un bello spettacolo natalizio, con storie di Rodari, che si intitola L'albero di Rodari. A fine 2017 abbiamo fatto una tournée nei licei romani. Dopo lo spettacolo chiedevamo ai ragazzi di immaginarsi la scuola in maniera diversa. Come potrebbe essere la scuola dei tuoi sogni? Ci siamo resi conto che era difficilissimo trovare una risposta. Cioè, i ragazzi non erano soddisfatti della propria scuola o del proprio percorso, ma non riuscivano a immaginarsela in maniera diversa. E anche quando abbiamo detto di usare la fantasia, di essere non realisti, un po' utopisti, non venivano fuori le risposte. Questa è stata la ragione per cui abbiamo inventato questo percorso in cui l'immaginazione diventa il centro del nostro lavoro. in cui l'immaginazione diventa il centro del nostro lavoro. in cui l'immaginazione diventa il centro del nostro lavoro.